Dopo aver avviato la riorganizzazione degli ospedali per accogliere fino a 3.000 pazienti contagiati dal coronavirus e covid-19, la regione toscana ha siglato un accordo con i gestori di hotel e agriturismi attualmente vuoti per ospitare fino a 2.000 persone affette da coronavirus ma con sintomi lievi o in via di guarigione. Sarà così garantita una situazione di isolamento e cura, liberando posti letto negli ospedali ed evitando di far tornare i pazienti a casa fino a quando non risultano del tutto negativi ai test. Le strutture alberghiere destinate ad ospitare i contagiati dovranno avere almeno 50 posti letto e saranno utilizzate esclusivamente dalla regione fino alla fine dell'emergenza, evitando promiscuità fra pazienti e normali villeggianti. A breve arriverà anche in tutti gli ospedali della Toscana il tocilizumab, il farmaco prodotto dall'azienda farmaceutica Roche per curare l'artride reumatoide che, si è scoperto, è in grado di ridurre i problemi polmonari ai pazienti colpiti dal coronavirus. La Roche ha offerto gratis il farmaco agli ospedali che ne faranno richiesta. La regione toscana ha accettato l'offerta. Il farmaco sarà somministrato ai pazienti più gravi. Sul fronte dell'economia, per ridurre l'impatto negativo dell'epidemia sulle imprese, la regione toscana è pronta ad emanare misure urgenti per lavoratori e datori di lavoro non appena il governo emanerà a sua volta il relativo decreto legge. Al centro dei provvedimenti, per mantenere la continuità produttiva e occupazionale, c'è la Cassa Integrazione Inderoga, che potrà essere richiesta da tutti i datori di lavoro del settore privato, incluso quello agricolo, compresi quelli che hanno meno di cinque dipendenti.